Ragazzi chiedo scusa se blocco il vostro abbiocco serale Però ma volevo farvi notare che è iniziata la Premier League E come è iniziata, cioè io stasera sono rimasto basito Arsenal 4, Leicester 3 Cioè ragazzi questa era l'opener Nel wrestling si dice l'opener, l'opener della Premier League È iniziata bam 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 4 a 3, una cosa clamorosa Ragazzi abbiamo visto la cassette, sono rimasto basito Basito, sono rimasto basito La cassette, debutto, gol fantastico Veramente gol fantastico, di testa proprio a muoversi Bello, ma poi ragazzi vi dirò Poi magari quest'anno sarà importantissimo Come avevo detto per quella cifra 50 milioni di euro Un attaccante del genere sarà importantissimo E attenzione perché per me potrebbe vincere la classifica capocannonieri L'1 a 1 dell'Eister così come l'1 a 2 Ragazzi è per la difesa La difesa dell'Arsenal è inguardabile Io non sono uno di quelli che dice Sì vabbè ma insomma che bello giocare così Però tu dai difese e bla Io sono uno che si gode il calcio Però l'Arsenal se volesse vincere la Champions Sì la Champions Se volesse vincere la Premier League Dovrebbe per forza, per forza mettere a posto la difesa Anche perché così non si va da nessuna parte Cioè allora il primo gol fatto dall'Eister Poi un'ora all'Eister Però il primo gol fatto dall'Eister L'Arsenal sembrava la Roma di Rudy Garcia Dietro Ta 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 Correvano di qua e di là senza capire nulla Il secondo gol Vardy Bellissimo assolutamente Però anche lì ragazzi la difesa dell'Arsenal va a Cicorie Il 3 a 2 dell'Eister Vardy ancora Vardy ragazzi è mostruoso Quest'anno fare il devasto Però Vardy anticipa Anticipa tutti Ha anticipato tutti Ha anticipato tutti E ha colpito di testa indisturbato Poi bellissimo è quello che vi pare Però Comunque Ramsey segna il 3 a 3 Quindi la grattata di tutti ovviamente ci sta Però ragazzi al di là di tutto Non andiamo solamente a vedere queste cose negative di Ramsey Ma guardiamo anche le cose positive Ovvero che ragazzi ha fatto ancora una volta un gran gol Questo è veramente un bel giocatore Questo è veramente un bel giocatore E poi io non ho parole Non ho parole per il gol di Giroud Ma non perché il gol E la bellezza Il gol non gol Perché Giroud entra e segna Questo io cercavo di farvi capire Molti mi dicevano Sic ma tu hai messo nel mercato che farei dell'Arsenal Il Giroud No del Paris Saint Germain Hai preso Giroud Per metterlo in panchina come terzo No Perché avevo detto Cavani Ve l'ho detto prima di una parola Che lo può giocare esterno volendo Mettevi il centro avanti Ora mi è pure passato di mente chi fosse Non me lo ricordo più E Giroud è il primo panchinaro Ma va al Paris Saint Germain per fare la panchina Sì Sì perché Giroud è quel giocatore che entra Segna Finita Tutti a casa Tutti a casa Ragazzi sto giocatore in una squadra È importantissimo È importantissimo ragazzi Sto giocatore in una squadra E Giroud quest'anno ne sbloccherà tante Ne sbloccherà tante Abbiamo iniziato col botto ragazzi Abbiamo iniziato veramente col botto Sono felice Sono felice Se quest'anno la premiera è così Ci divertiremo non poco L'Arsenal fa 3 punti Cose da rivedere ci sono A parte diciamo anche che l'Arsenal era molto rimaneggiato Rimaneggiato diciamolo perché Gli mancavano 9-10 giocatori Non tutti i titolari Però 4-5 titolari Gli mancavano La difesa E ce n'era uno titolare Mi pare che era Beyerin A esagerare Cioè no Forse ce n'era uno Mi sa uno Mancavano Mancava Mustafi Mancava Colcellini Mancavano Praticamente tutti i giocatori della difesa Per cui Ci sta anche tutti questi gol presi Però l'Arsenal dietro deve un po' mettere a posto qualcosa Comunque fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto Con un commento di questo Di questo inizio proprio Papam Scoppi e tanti Come sempre vi ringrazio per la visione Prima vi lascio un mi piace In casa non tratevi un dislike Vi lascio in descrizione il link del Maestro 2.0 Che apprendi i prossimi È veramente bravissimo ragazzi Calcio NBA è veramente bravissimo Però il gioco è avvitato ai minori di 18 anni Come sempre vi ringrazio per la visione Buon c'è l'all'alline Ci vediamo ad un prossimo video